Partiranno lunedì prossimo lavori di riqualificazione di piazza di Azzamonte Silvano, la più importante piazza della città dove si affaccia il municipio, sarà sottoposta infatti ad un restyling grazie ai fondi del PNRR. Il progetto è stato curato dall'architetto montesilvanese Martina Di Nardo Di Maio, che dopo alcune modifiche richieste dal comune ha parzialmente rivisto l'elaborato. Sì, l'intervento che inizieremo fa parte di un lavoro più complesso che ha visto la rivistazione e la riqualificazione di piazza Indro Montanelli, a seguire quindi la settimana prossima inizieremo i lavori di riqualificazione di tutta la pavimentazione esistente qui in piazza. Il nuovo intervento, ha sottolineato inoltre l'assessore ai lavori pubblici Lino Ruggero, consisterà nella demolizione del rivestimento delle aiuole e dell'intera pavimentazione della piazza e nella demolizione parziale dell'aiuola a sinistra dell'ingresso del comune, sostituita con la creazione di una seduta perimetrale all'aiuola con rifacimento totale del verde interno. Sarà poi demolita completamente anche la aiuola a destra dell'ingresso del comune, così come sarà realizzata una fontana a raso pavimento con getti d'acqua illuminati programmabili. Per impreziosire la piazza del comune sarà poi realizzata una nuova aiuola circolare con un muretto perimetrale da utilizzare come seduta e con la messa a dimora di una grande magnolia al suo interno. Diciamo che l'ambiente, la piazza sembrerà più vivibile, più aperta e accogliente, saranno traslati anche i pali dell'illuminazione creando un ambiente unico. Il nuovo intervento, aggiunto ancora l'assessore, si inserisce nell'ambito della riqualificazione dell'intero centro di Monte Silvano. Quanto dureranno i lavori, assessore? I lavori previsti su questa piazza sono circa di 90 giorni. Ricordo che oltre a Piazza Mondanelli e a Piazza Diaz ci sono già in corso i lavori di riqualificazione di Via Vestina, di Via L'Europa, di Corso Umberto. Insomma, sono tanti gli interventi sul territorio che porteranno beneficio a tutta la collettività.